Shara e Shepa Hello in the future! Get to go Shara, come to be crazy! Che casino! Allora... Sono a casa di mia cugina Sono con mia cugina Telea Mia sorella Charissa E mia cugina Mary E oggi faremo la Whisper Challenge Per chi non lo sa Praticamente Whisper Challenge Consiste nel... Allora, uno di noi deve Ascoltare la musica sotto volume con le cuffie E l'altro L'altra professore invece deve parlare Quindi l'altro deve capire il labiale Insomma, dobbiamo dire qualche frase E se lei riesce a indovinare fa un punto Siamo in quattro quindi Prima io e Atelea E poi mia sorella Versus Mary E poi chi vince fra di noi? Si fa il cambio Si fa il cambio Se non avete capito E niente, cominciamo Cominciamo Allora Il punteggio Funziona praticamente che in un minuto Chi indovina più parole o frasi Passa al prossimo round Chi è che... Cioè... Vai Se vuoi Allora, chi vince facciamo canta sasso forbici Chi vince fa... Ok Sasso canta forbici Sasso canta forbici Allora io Vai Ci vince la musica Bra Bra Un punto Ho segnato i punti Marino Pantulo Pantaloni Prossima parola Pass Spiaggia Spiaggia Cielo E? Cielo Colcento Cielo Cocce Cielo E? Oggetto Oggetto Passo Battaglino Eh? Patatine Ripeti Patatine Patatine Se ne punti C'è il segnate Vai Giacca Eh? Giacca 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 Di nuovo Giacca Giada Giacca Cucciara Rana Rana Passo Rana Rana Gualana Ho perso 3 punti 3 punti 3 minuti 3 punti 3 punti Ah ha detto giacca Ah ha capito 1 2 3 Qua si sente? Vai Ehmm Pane Pane Maglietta Maldita Maglietta 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 Puzzola Puzzola Picciatelea Arcobaleno Halloween Amburger Cicciarossi Arcobaleno Andoggo Arcobaleno Andogba Allora un'altra parola Opossum Opossum Brava Occhiali 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 Junkook 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 Puzzola 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 Hai fatto sei punti Hai fatto sei punti Ah diciamo Si un minuto One two three go Mare Mare Tua baligia Baligia Tua mamma Tua mamma Puzzola Tua mamma Tua mamma Tua mamma Tua mamma Petugna Petugna Mamma Sita Mamma Sita Beba Leva Aspetta Aspetta Perno Stop Un borsi Casa 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 Puzzola 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 Passato Siamo passati un minuto Siete Sperta Mi sape Vai Uno Due Giangkuk Giacomo Giangkuk Gianluca Gianluca No Giangkak Poi parlare Giancuc How you like that? Giancuc Giancuc Gian Non fallo piano, fallo normale Kisha è bella Si, non male Kisha è bella Kisha è bella Non ho l'altro Ok Black to pink Who think? Black pink Ah, black pink Chessine 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 Lasagne 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 Masato, c'è Time out Quattro Non so che danno quattro Abbiamo perso Constitutiva Siamo al Siamo al Siamo al terzo round Che è la finale Charisse vs Satelea Perchè hanno vinto loro Vai, go Tut dico Tadà Tut dico Tadà Sì già Gammè 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 Gabbiale 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 L'ho capito Gabbè 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 Si Massimo Per Quattro 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 Due Allora Cambio Change Pubblicità Mascara Pescara 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 Ok Sai che da metà Non so neanche sempre Make up Make up La metà le di perché ti serve da solo Ci risparla Cioè Labiale Labiale Cioè non è proprio labiale Parla un po' più Basta voce Eh Cane Grazie Brat Chimbo Film Chimbo 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 Nanxx Nanx aplic Noi Elche L'ho Anz immigrant John Matt Ah L'alabicazione C C Relax 3 Relax Verde Relax Velanda Relax Relax Uva Ripeti guardate ma che cosa sto facendo la musica oh my gosh girl cuffie cuffie yes bacla bacla cuizzo è la visione di un po' vai sede un po' rosa posa rosa yes stivali stivali babboitata babbo babbonata babbo natale cuore cuore tumore cuore cuore vitello 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 specchio specchio si sta fermando finito che era? sei sei le seconde che sei sono cinque aveva vinto Mary uh uh ma la stai chitando? sii depresioni oh 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 tablet depressioni tevescoli che bella parola tevescoli depressioni tre persone tre persone dai pass smettila smettila vola un giorno vai e push moyan push moyan sento non ho anuga anuga non ho natural a faccia C'è quello che dice? Sì. Alcol. 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 Barbeque. Barbeque. Sì. 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 Pagdissal. Pagdissal o Pagdissal? No. Ok. Pagdissal. 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 Maldita. Sì. 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 Finito. Ah no. Ah era bimbo. Questo è tutto per oggi, alla fine non si sa neanche chi ha vinto, con tutto il caschio che c'era, però ci siamo divertite tantissimo, vero girl? Sì. Follow, follow. Seguite anche le mie cugine, come ti chiami su Instagram? Marongo e scattino mafomerite. Sì. Sì. Seguitele che sono delle gnocche. E... E... Questo era tutto per oggi, guys. Spero che abbiate capito qualcosa, spero che il video vi sia piaciuto. Don't forget to... Subscribe! Share and subscribe! Everything! E quindi... E quindi... A te... Ci penso i tempi del video. Va bene. Sì, ci penso io perché lei non c'è risa. Quindi... Ciao, guys! Ciao, bisous! Bye! Ciao! 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 Grazie a tutti.